La ventenne campionessa italiana assoluta e vittoria appuntana la donna più veloce d'Italia con un bel primato personale. Sono veramente felicissima perché sapevo di stare bene, però poi giocano molte cose, l'ansia, però volevo solo divertirmi. Dopo l'anno scorso, che è stato un anno pieno di problemi, sono veramente fiera di me, fiera del lavoro che abbiamo fatto io e il miniatore. Non so cosa dire perché è la mia prima vittoria assoluta e sono veramente contenta, soprattutto nei 60 che non sono proprio la mia specialità. Dove senti di essere migliorata di più rispetto all'anno scorso? Sicuramente in partenza, l'anno scorso la partenza mi metteva un po' in crisi. Poi nell'ultimo periodo abbiamo lavorato tanto sul lanciato che sta di nuovo venendo fuori come quello dell'anno scorso e come quello di Boras, quindi sono veramente contentissima. Domanda indiscreta, quanto vale sui 100 metri? Ah non lo so, non voglio saperlo!